Credo sia sempre giusto ricordare che le idee valgono la pena di essere sostenute se sono poi capaci di concretizzarsi in azioni. Sono convinto che insieme possiamo fare ancora tante cose per questa provincia, per la Campania, per l'Italia, insieme al centro-destra nazionale e insieme al Stato di Italia. Grazie per la visione!